La giornata è la giornata mondiale della gentilezza, è stata istituita addirittura in Giappone molti anni fa, in Italia è arrivato un po' tardi, però molte associazioni sono nate, molti comuni hanno un assessore alla gentilezza e sono veramente felice che anche Pesaro abbia un assessore alla gentilezza che interverrà alla serata. Il programma prevede oltre ai saluti di rito ovviamente una illustrazione dei principi da parte di Vittorio Livi che è il fondatore dell'associazione al quale poi si è subito unito il conte Pino Limarcucci, insieme a loro poi farò un saluto io, ci sarà l'assessore alla gentilezza che anche lei introdurrà e invierà i saluti del comune e poi una bella relazione del professor Rodolfo Battistini sulla gentilezza nelle arti visive. Premieremo poi tre persone che sono particolarmente distinte per atti di gentilezza e oggi sempre di più la gentilezza è un valore da diffondere ed è bella la definizione che ne dà Goethe soprattutto, è una catena che tiene uniti gli uomini. L'uomo non nasce per essere solo, può restare solo per difficoltà, per situazioni contingenti o per scelte o per drammi, ma l'uomo in generale vive nella relazione con gli altri. Questa relazione con gli altri è importante che sia intonata a questo senso della gentilezza e di condivisione dei problemi.